Musica Iniziativa delle nonne della comunità marocchina in Italia e del parlamentare del PDL Suad Sbai che ha presentato la relazione annuale del numero verde Mai Più Sola Un centro che in quattro lingue diverse fornisce aiuto psicologico e medico alle donne immigrate oggetto di minacce e violenza Nel corso del convegno è stato ribadito il no all'imposizione del Burka La presentazione è intervenuta anche il ministro della Pari Opportunità, Mara Carfagna